E buongiorno ragazzi, benvenuti su The Talk About, io sono Saga e in questo video torneremo a parlare di Validus. Perché vi faccio questo video? Perché sono passati esattamente tre mesi da quando ho iniziato con Validus e quindi mi è sembrato giusto fare un recap della situazione, proprio perché tre mesi fa, quando ve l'ho presentato, sembrava un progetto molto interessante, molto solido e fortunatamente per ora così è stato. Voglio farvi vedere nel dettaglio come è cresciuto l'investimento. Sono partito con pochissimo perché non conoscevo il progetto, non ho avuto nessuno come l'ha presentato, l'ho trovato e quindi ho dovuto insomma un po' avventurarmi, quindi sono partito ovviamente con i piedi di piombo, ma ora il mio profilo è bello solido, quindi voglio farvelo vedere. Vi faccio vedere bene tutto quanto, quindi like al video per aiutarmi a sostenere il canale perché mi aiuterebbe tantissimo. Se non l'hai già fatto iscriviti al canale e premi anche sulla campanella così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo contenuto e vediamo tutto quanto bene dopo la sigla. Se non sai assolutamente che cos'è Validus ti consiglio di andare a rivedere i miei video che ho già fatto sulle piattaforme dove la spiego molto bene nel dettaglio, ti lascio magari qua sotto. In breve come funziona? Dovemo comprare un pacchetto che si parte davvero dai 50€, quindi di una cifra piccolissima, fino a cifre parecchio più alte, in più i pacchetti sono anche cumulabili, e noi partiremo da una rendita che ci dà il 2-3% dei nostri pacchetti, ma vedremo poi insieme che questa rendita può crescere davvero tantissimo. La piattaforma ci paga in Bitcoin, con i soldi che ci dà la piattaforma noi possiamo chiaramente prelevarceli oppure reinvestirli e comprare altri pacchetti. Ma anche per tutti questi dettagli ti rimando ai video che ho già girato appunto un paio di mesi fa. Ti spiego bene come fare il deposito, come fare il prelievo, come fare il rebuy, ti spiego tutto quanto. Su questo video ci focalizzeremo proprio a vedere com'è andata dopo tre mesi di investimento. Quindi ora ci spostiamo al computer, così ti faccio vedere direttamente sulla piattaforma il profilo, possiamo guardare i dettagli e tutto quanto insomma. Quindi spostiamoci al computer. Ed eccoci su Validus, questo è il portale. Allora intanto questo video è indirizzato a tre persone. Uno, a chi magari ha iniziato l'avventura su questo portale con me, quindi è in rete con me. Voglio farti vedere come è cresciuto il tutto, in modo che tu possa magari prendere spunto e far crescere anche il tuo profilo per farlo arrivare comunque ad avere una rendita molto interessante. Due, per chi magari non conosceva assolutamente il progetto, quindi ci dai ora un'occhiatina qua, ti ripeschi i video appunto che ti lascio in descrizione, ti studi bene il progetto e vedi se può interessarti. Tre, a chi magari si interessava al progetto, ma si stava chiedendo ma rende, non rende, funziona, non funziona, ora è tre mesi che lo utilizzo, quindi diciamo che dopo tre mesi uno può già tirare le somme. È chiaro che, come sempre, non sono mai consigli finanziari, ognuno dovrebbe investire in queste piattaforme i soldi che è disposto a perdere, perché sono comunque piattaforme ad alto rischio. Se per ora è andato tutto benissimo con delle rendite eccezionali, non è detto che questo debba durare per forza per anni, quindi chi lo sa. Insomma, io sono stra soddisfatto per ora e vedremo il futuro, che cosa ci riserverà. Intanto vediamo un paio di cose. La prima cosa che voglio farvi vedere, vi do un ripassino per chi l'avesse già visto, o per i neofiti almeno possono vedere come funziona. Se io vado in pacchetti, mi fa vedere con che pacchetti posso partecipare. Quindi come vedete, il più piccolo costa 50 dollari, quindi un investimento davvero piccolino, e il più grande costa 10.000 dollari. I pacchetti sono cumulabili, potete comprarne quanti ne volete. Ogni pacchetto dura 60 settimane e dopodiché si esaurisce. Quando io compro il pacchetto posso scegliere l'auto rebuy, ovvero dopo 60 settimane il pacchetto si esaurisce, ma con l'auto rebuy Validus me lo va a ricomprare, oppure posso fare tutto manuale, quindi quando voglio mi compro un altro pacchetto. Ti faccio rivedere anche velocemente come fare un deposito, come si fa, vado su Add Money, premo qua, decido quanto voglio mettere, quindi mettiamo che voglia mettere 500 euro. Scrivo 500 e premo su questa iconetta qua. Posso decidere con che coin fare il deposito. Io lo faccio sempre in Tether, in TRC20, perché è quello che costa meno, quindi costa un dollaro, costa veramente pochissimo. Quindi premo su Tether e dopodiché faccio completa il checkout. lui mi crea questo indirizzo. Dovrò fare semplicemente un deposito di questa cifra che leggo qua su questo indirizzo. Ricordatevi di contare anche le fee, quindi se lo fate da Binance aggiungete sempre un USDC, che è quanto si tiene Binance. Quindi a quella cifra che vi chiede qua, aggiungete 1. Fatto questo, in pochissimi minuti vi arriverà il deposito e potrete utilizzarlo per comprare i pacchetti. Quindi ve ne tornate su Validus, andate di nuovo su Pacchetti e premete il tasto d'acquisto che chiaramente si illuminerà. Quando arriveranno i miei 500 dollari, si illumineranno tutti questi tasti qua, chiaramente, perché potrò comprare fino a quello di 500, ok? Fatto questo, il pacchetto comincerà a lavorare. Come lavora il pacchetto? Il pacchetto paga ogni lunedì, quindi ogni lunedì prenderò il totale dei miei pacchetti, il sistema farà la somma e mi darà dal 2 al 3% dei miei pacchetti. Questo ogni lunedì. Quindi io, se non faccio niente, mi limito a comprare i pacchetti, mi prendo il mio 2-3 a settimana e finisce lì. Voglio farvi notare una cosa, il mio pacchetto più alto che ho preso è quello di 250 dollari, che è il primo con cui ho iniziato. Quindi io ho investito sulla piattaforma per iniziare 250 dollari. Poi ho fatto un sacco di rebuy e il mio totale dei pacchetti al momento è di 1.400. Solo fatto con il rebuy, io non ci ho mai messo più un euro, quindi sono partito da qua, rebuy, rebuy, rebuy e sono arrivato qua. Quindi questo già vi fa capire che con il rebuy potete ingrandire il vostro investimento tantissimo. Ma qual è il vero potenziale di Validus? Ci sono diversi modi per guadagnare. Uno è questo qua, con i pacchetti, ma il modo migliore sono le gambe. Validus funziona su un sistema di rete. Immaginate il vostro profilo come una pallina al centro. Ogni volta che qualcuno si iscrive con il vostro referral, lo potete mettere alla vostra destra o alla vostra sinistra. In questo modo qua vi faccio vedere. Ecco qua. Come vedete, questa è la pallina mia che vi dicevo e poi ho due gambe, una a destra e una a sinistra. Come faccio a settare queste gambe? Sempre dalla dashboard. Qua decido destra o sinistra. Per esempio adesso sono messo su sinistra, vuol dire che se qualcuno si iscriverà oggi con il mio referral andrà a sinistra della mia gamba, quindi da questa parte di qua. Questo a che serve? Molto semplice. Validus conterà l'investimento settimanale di ogni gamba e ve lo mostrerà qua sotto. Quindi come vedete, questa settimana per adesso ho a sinistra 100 dollari investiti, a destra 1750. A che serve tutto questo? Serve che ogni giovedì Validus vi pagherà del 10% della vostra gamba più piccola. Quindi in questo caso se oggi fosse giovedì io prenderei 10 euro dalla gamba di sinistra perché ho 100 euro. Qual è quindi il trucco? Il trucco è tenere delle gambe bilanciate. Quindi adesso il conteggio è appena iniziato perché sto girando il video che è venerdì. Entro giovedì prossimo dovrei avere più o meno delle gambe bilanciate che ne so, mettiamo 2000 e 2000 in modo che mi prendo 200 euro perché prendo il 10% della gamba più piccola e mi porto a casa 200 euro. Questo succede tutte le settimane. Quindi voi contate il 2-3% di vostri pacchetti più quanto vi dà la gamba e vedete che avete una grandissima rendita. Quindi è importantissimo su Validus avere una rete solida. Se vi iscrivete col mio referral finirete chiaramente sotto una delle mie gambe. Cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio in questo momento voi vi andate a iscrivere vi faccio rivedere la schermata andate in questa gamba qua di sinistra dove c'è già della gente quindi praticamente ereditate una gamba con già fatemi un po' vedere 135 persone registrate quindi avrete una gamba già praticamente riempita dalla mia rete ovvio che l'altra dovete svilupparvela voi perché io posso aiutarvi solo in una delle due quindi vi posso aiutare a seconda se sono settato destra o sinistra nel momento in cui vi iscrivete ma in quella gamba dove praticamente vi mando io all'altra dovete pensarci voi quindi se vi iscrivete su questa piattaforma non fatelo a casaccio io sono partito da zero non avevo nessuno se fossi partito con qualcuno dietro con una rete come la mia ora ovviamente sarei molto più avvantaggiato ma davvero quando sono partito io non sapeva quasi nessuno di questa piattaforma era completamente sconosciuta sono proprio stato uno dei primi di conseguenza lo svantaggio di partire per primi che sia da soli ora avete l'opportunità di partire già con una rete avviata come la mia ripeto ne ho 135 a sinistra 137 a destra è già una buonissima rete quindi avete l'opportunità di avere una gamba già sviluppata sta a voi poi partire con l'altra e svilupparla per bene e in caso andare a incrementare anche quella dove ho messo io chiaramente quindi poi sta tutto a voi inoltre aggiungo che ogni volta che qualcuno che si è registrato con il vostro link va a fare un deposito voi prendete il 10% di quel deposito però anche su questo ti rimando agli altri video che l'ho spiegato molto bene quindi ti rilascio in descrizione ricapitoliamo quindi prendiamo ogni lunedì il 2-3% del totale dei nostri pacchetti e prendiamo ogni giovedì il 10% della gamba più piccola che abbiamo quindi insomma vi potete fare davvero una marea di soldi con questa piattaforma rimane ancora un metodo di guadagno siamo a quota 3 quindi guadagno dei pacchetti guadagno delle gambe e guadagno diretto del 10% dei versamenti dei referral il quarto guadagno è la rete matrix questo è difficile la rete matrix è difficile perché abbiamo due requisiti molto importanti da soddisfare dobbiamo avere una rete per gamba di 1500 dollari in totale come vedete la mia di sinistra è a 7600 la mia di destra è a 9400 quindi ancora non ci sono chiaramente non è una cosa facile perché serve essere belli tosti come rete ma si può fare una volta che abbiamo 15.000 e 15.000 ci servirà avere attivo un pacchetto da 5000 quindi come cosa impegnativa ma attenzione perché la matrix dà una rendita enorme quindi una volta attivata la matrix le rendite schizzeranno per aria non una cosa da puntare appena iniziata appena inziate puntate sulle tre rendite quindi rendita da pacchetto rendita da gamba assolutamente puntate bene sulle gambe usate bene le gambe e rendita da gente che si scrive col vostro referral vi assicuro che i soldoni li fate con le gambe questo proprio ve lo assicuro se voi siete bravi a fare gruppo vi trovate un gruppo di amici lo fate insieme a qualcuno insomma in modo da avere già le gambe un po' sviluppate tra re-buy e tra tutto il resto vedrete che va avanti praticamente da solo chiaramente con i primi soldi che fate conviene assolutamente fare re-buy di qualche pacchetto in modo che non state con troppi pochi pacchettini perché il 2-3% a settimana quando cominciate ad avere un po' di pacchetti rende bene e il gioco è fatto tutto qui ragazzi per fare il prelievo e il re-buy vi ho spiegato tutto negli altri video ripeto sono tutti qui in descrizione guardateli assolutamente non buttatevi a casaccio con questo contenuto in tutto siamo a 3 video su validus e se voi ve li guardate tutti e 3 avete tutta la situazione completa e potete decidere se partecipare non partecipare come utilizzare la cosa insomma davvero non vi mancherà nulla come vedete in 3 mesi che è pochissimo sono passato da un investimento di 250 dollari a un investimento di 1400 dollari tutto fatto solo con i re-buy io davvero non ho messo più un centesimo sono tutti i soldi che io ho fatto qua sopra e li ho ributtati dentro quindi traetene voi le conclusioni e a voi il valutare quanto potenziale di crescita ha questa piattaforma e per questo video ragazzi è davvero tutto io vi saluto trovate qua sotto in descrizione sia il link per iscrivervi a Validus ovviamente e anche i due video per avere un resoconto completo di come funziona la piattaforma nel dettaglio se questo video ti è piaciuto ti chiedo ancora una volta di lasciare un bel like perché mi aiuterebbe tantissimo a far crescere il canale se non l'avessi già fatto anche iscriviti al canale e premi anche sulla campanella così verrai notificato non appena pubblicherò un qualsiasi tipo di aggiornamento io ti ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video A presto